Salve a tutti giovani droidi e bentornati sul canale dell'insolenza di R2D2. Io sono sempre Gaetano e oggi voglio parlarvi di un quesito che attanaglia i fan da molto tempo, soprattutto dopo la seconda stagione di The Mandalorian, e cioè come ha fatto Boba Fett a sopravvivere al Sarlacc. Prima della conferma della sua sopravvivenza avvenuta all'interno della seconda stagione di The Mandalorian, c'erano già degli indizi riguardanti la sua possibile sopravvivenza al famelico Sarlacc. Ma in realtà il fatto che egli fosse sopravvissuto all'esperienza in episodio 6 era un qualcosa che aleggiava nell'aria da tanto tempo. La serie The Book of Boba Fett, che uscirà il prossimo dicembre, esplorerà il passato del personaggio e sicuramente ci svelerà il modo tramite il quale egli è riuscito a sopravvivere al Sarlacc. Quello che ci chiediamo, e di cui vi parlerò in questo video, e se esistono degli indizi canonici che ci permettono di anticipare un po' quelli che saranno i temi della serie. Ve ne parlo dopo la sigla. Nel primo episodio della seconda stagione di The Mandalorian abbiamo visto una bellissima trasposizione dai romanzi canonici di Star Wars, e cioè l'introduzione del personaggio di Cobb Vent, lo sceriffo di Mos Pelgo, chiamata all'interno del romanzo anche Freetown, che indossava niente meno che l'armatura di Boba Fett. All'interno del romanzo, come racconta anche Cobb Vent nella prima puntata della seconda stagione di The Mandalorian, ci viene narrato come i Javas avessero scovato un'intera armatura mandaloriana all'interno delle fauci del Sarlacc, e soprattutto di come Cobb Vent l'abbia ottenuta. Alla fine dell'episodio, però, dopo che Din Djarin aveva aiutato lo sceriffo contro il temibile Drago Krait, Cobb Vent decide di dargli l'armatura mandaloriana. E nell'ultima sequenza dell'episodio accade la sorpresa, un qualcosa che comunque avevamo già ipotizzato nella prima stagione. Vediamo il nostro Temuera Morrison sulle dune di Tatooine, e sappiamo ovviamente che egli interpreta Boba Fett. Questa rivelazione ha scatenato i fan di Star Wars, che hanno cominciato a fare tantissime ipotesi, sia su come il personaggio fosse sopravvissuto, e soprattutto su cosa abbia fatto in quegli anni. Perché, lo ricordiamo, la domanda Lorian è ambientata cinque anni dopo gli eventi del ritorno dello Jedi. Ma la domanda principale è rimasta sempre la stessa. Come ha fatto Boba Fett a sopravvivere alle grinfie del Sarlacc? Come sappiamo, infatti, il tenibile Sarlacc, una volta inghiottite le sue prede, le digerisce tra atroci sofferenze per più di mille anni. All'interno del canone, e sempre all'interno dei romanzi della trilogia di Aftermath, esistono delle spiegazioni che ci permettono di capire come il temibile cacciatore di taglie sia riuscito a fuggire a questa spaventosa creatura. All'interno del secondo capitolo, e cioè il romanzo Aftermath Debito di Vita, infatti, troviamo uno spezzone che recita quanto segue. Il possente Sarlacc era rimasto ferito quando il relitto del galeone gli era precipitato sopra. Il suo corpo era quasi completamente scoperto, con i condotti digestivi squarciati e i giavoperosi che setacciavano le sue interiora. Depredavano armi, armature, droidi, utensili e, naturalmente, scheletri. Questo passo del romanzo è importantissimo per riuscire a capire ciò che è successo subito dopo gli eventi della prima parte del ritorno dello Jedi. Infatti, probabilmente, in condizioni normali, Boba Fett non sarebbe mai riuscito ad uscire vivo dal Sarlacc. Ma il romanzo ci racconta invece che la mostruosa creatura era stata ferita da quella che era stata la caduta di giganteschi detriti del galeone di Jabba, che, come ricorderete, in episodio 6 è esploso. Dopo essere esploso a mezz'aria, quindi, i detriti del galeone sono caduti all'interno del Sarlacc, squarciandone le fauci. Ciò ha permesso ai Javas di fare incetta di veri e propri tesori rimasti all'interno della creatura per migliaia di anni. Quindi, appunto, armature, droidi, utensili, ma anche e soprattutto scheletri. In tutta questa confusione, è probabile che Boba Fett, in primis, abbia perso la sua armatura e in secondo luogo sia riuscito a fuggire proprio grazie agli squarci presenti all'interno del Sarlacc. O ancora, è probabile che il cacciatore di taglie abbia dovuto, per forza di cose, liberarsi della sua armatura per potersi salvare. Ovviamente, al momento, non possiamo rispondere con precisione a questa domanda, ma la cosa importante è che sappiamo che il motivo per il quale è riuscito a sopravvivere potrebbe riguardare il fatto che il Sarlacc era gravemente ferito e perciò non è riuscito a cominciare la digestione del personaggio. Questo però non spiegherebbe perché Boba Fett abbia atteso così tanti anni, quasi cinque anni, per poter recuperare la sua armatura da Cobb Vent, poiché, come sappiamo, egli era a conoscenza del fatto che la sua armatura la tenesse lo sceriffo. Qui le ipotesi sono due. O Boba Fett, conscio delle buone intenzioni dello sceriffo Cobb Vent, gli ha lasciato la sua armatura per poter portare giustizia in una cittadina in balia dei criminali, oppure egli ha dovuto aspettare un po' di tempo per riprendersi dalla caduta. Il fatto di essere sopravvissuto, infatti, non esclude la possibilità che Boba Fett sia uscito dal Sarlacc gravemente ferito e a dimostrarlo potrebbe essere anche e soprattutto la presenza delle tanti cicatrici che segnano il volto del personaggio. Come sappiamo da Domandalorian, inoltre, il Sarlacc è stato poi divorato dal drago Krait, che sarà poi sconfitto anni dopo proprio da Din Djarin, dai Tusken e da Cobb Vent. Perciò è anche probabile che quest'ulteriore mostro abbia giocato un ruolo fondamentale nella fuga di Boba Fett dalle fauci del Sarlacc. Come potete vedere, anche se non conosciamo la dinamica precisa dei fatti, tramite gli indizi canonici contenuti nei romanzi di Aftermath, possiamo ricostruire la modalità tramite la quale Boba Fett è riuscito a salvarsi da una morte lenta e soprattutto dolorosa. Per nostra fortuna la serie The Book of Boba Fett sta per arrivare su Disney+. Mancano infatti pochissimi mesi al dicembre del 2021. E, come vi dicevo, è già confermato il fatto che all'interno dello show vedremo il passato del Cacciatore di Taglie. Ed è quindi praticamente scontato che ci verrà raccontato anche il modo tramite il quale egli è sopravvissuto. Inoltre, considerando che le riprese della serie sono ufficialmente concluse, speriamo che nelle prossime settimane possa uscire anche un primo trailer di questo spin-off, che tutti quanti stiamo attendendo con tanta tanta ansia. Ditemi nei commenti cosa ne pensate e se questo video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanellina delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sulle prossime uscite. Io vi saluto e che l'insolenza sia con voi!